Mi trovavo in un edificio in via Castelfidardo da un'amica, diciamo un'amica, appena scessa dal palazzo, uscita dal portone del condominio, a livello del fruttivendolo cipoletta. Ho sentito dalla via Marconi, dall'angolo della via, i urli, la borsa, la borsa, la borsa, guardando ho visto una persona che correva, ho capito che praticamente un deliguente che aveva rubato la borsa a questa persona, lui ha provato a attraversare per andare verso il centro Grottamare, a quale io mi sono messa in mezzo alla strada per fermarlo, appoggiando, buttando per terra le mie cose che avevo e io ho preso, io ho afferato la borsa che era quella della signora. Perché ha deciso di intervenire? Perché era una cosa istintiva, perché è giusto aiutare le persone, non puoi rimanere indifferente quando succede una cosa del genere, può capitare a me come può capitare a un altro, ma non ci ho pensato minimamente, anche se indietro a questo che correva ho visto che c'erano delle altre persone, io non ci ho pensato, non ci ho pensato che magari può avere un'arma, può avere qualcosa, non ci ho pensato. Cioè io ho preso la borsa, io ho afferrato la borsa, a quale lui che era uno bello alto, mi ha preso la mano per girarmi la mano, poi trovandosi nelle spalle con il fruttivendolo, lui ha ammolato sia la borsa che la mia mano, secondo me pensava che è stato fermato, non sapeva quante persone sono. Io trovandomi libera, con le mani libere, con la borsa, il mio primo, non lo so, istinto è da correre perché ho recuperato la borsa. Ho girato la testa e vedevo questo Marco Cipolletta Frutti Belli che continuava a tenerlo, a fermarlo, però non riusciva, non è riuscito. Nessuno non ne ha dato una mano perché fosse un'altra persona, quello era già fermo. Quindi c'erano altre persone? Sì, c'erano altre persone, c'erano altre persone che praticamente nessuno, nessuno non si è mosso a dare una mano. La fine è riuscito a scappare prendendo penso la via 20 settembre. E nessuno si è fermato, nessuno si è girato per aiutare? Nessuno, 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 nessuno. Perché se Marco avesse avuto un'altra persona che lo afferrava di un altro bacio, quello rimaneva fermo. E poi ho ritornato indietro a consegnare la borsa, che ho trovato la signora che si capiva chi è, anche se c'erano diverse donne lì all'angolo, si capiva perché era sconvolta, oltre che tremava. E' riferita? Si, perché l'ha buttata proprio a terra, dopo ho capito come sono successe le cose. Chiedeva cercatemi occhiali, non vedo cercatemi occhiali, una signora li ha trovati in mezzo alla strada. Lei è cittadina romena, è venuta qui in Italia quanto tempo fa? Allora, io sono in Italia da 2003, per cui sono ben 15 anni, a giugno saranno 16 anni. Sono cittadina italiana con i requisiti, con i requisiti dal 2008. Però, prima di tutto, mi sento una persona onesta, una cittadina del mondo onesta, né italiana né romena. Europea? Esatto, esatto, esatto. Io ho sempre insistito che le persone vengono apprezzate per quello che sono, per come si comportano, non per nazionalità, né per la religione, né per il colore della pelle. Sostengo la Lega, anche perché ci credo. Combatto per la sicurezza, perché veramente in Grottamare, di notte, le strade, anche al centro, sono quasi buie. Adesso, praticamente, ho fatto la mia testimonianza alla caserma dei Carabinieri. Non ci sono le telecamere su queste vie di centro Grottamare. Nonostante, nonostante, ultimamente, ogni due o tre giorni succedeva un furto. Ieri, quello che è successo ieri, in pieno giorno, perché vi assicuro, era giorno giorno, alle 5 di pomeriggio, succedere una cosa del genere. Ma ci rendiamo conto che quello ha seguito perché era consapevole che sono i giorni di ritiro pensioni? Questa era una persona comunque da 50 anni, perché era, diciamo, bene, forte, vivace. Fosse una persona anziana, rimaneva lì a terra. Fosse una persona anziana, rimaneva lì a terra. Fosse una persona anziana, rimaneva lì a terra.